Stiamo partendo, vediamo, vediamo, eccoci qua, ciao Alisha, sono qua con la nostra, ciao Massimo, ciao, ciao, per chi non la conoscesse ma la conoscerete sicuramente, bentornata, come stai Alisha, tutto bene? Molto bene, molto bene, alla grande, tu Massimo? Sì, sì, bene, ho saputo le vicissitudini che hanno tentato di hackerarti il canale YouTube, hanno hackerato YouTube, ma tutto a posto, tutto a posto, l'ho recuperato. Eh, meno male, intanto vabbè, ricordo Alisha Griffanti, alias Diva del Tubo, YouTuber, cantante, che cos'altro, insomma, videomaker, insomma, un po' tutto, esatto, esatto, sì, influencer, insomma, tutti, oggi parleremo un po' di narcisisti, varie tipologie di narcisisti. Sì, narcisiste soprattutto, narcisiste, narcisiste, tipe differenti dalle tue, ma ti volevo chiedere, giusto per chi magari gli YouTuber che ci seguono, dargli una dritta, fate attenzione che agli hacker, diciamo, se ci vuoi dire una piccola pillola a cosa fare attenzione. Più che altro, a chi come me e come te, lavoriamo sui social, stai attento Massimo, dovesse arrivarti un'email che ti dice, Massimo, abbiamo visto il tuo canale YouTube, ti offriamo 1500 euro per sponsorizzare il nostro prodotto, stai attento, possono essere gli hacker che poi ti mandano il file, sai, per il contratto, no? E tu lo apri ed è un virus che ti ruba YouTube, che ti copia il tuo browser con l'accesso a Gmail e ti hackerano Gmail e YouTube, quindi sai, è attentissimo, casomai c'è adesso una cosa del genere. Sì, sì, quindi a tutti gli YouTuber che ci ascoltano, occhio, io di queste mail c'è in realtà quotidianamente, in inglese, ma le cestino direttamente, non le apro neanche. Sì, sì, ma infatti sono loro, solo che sai, io anche con Instagram, siccome le faccio queste sponsorizzazioni, per me è normale rispondere, no? Sì, sì, sì. E questi veramente non c'è, ho controllato anche il mittente, perché ovviamente controlli che, però sembrava tutto perfetto, avevano anche il dominio col nome del prodotto, cioè, quindi sembrava veramente tutto perfetto, e invece... E invece, vabbè, però l'hai recuperato, sono per recuperare tutto a posto. Non ti rivolgersi all'assistenza di YouTube, magari sono un po' tutta fila, però poi te lo ridanno. Ma adesso parliamo un attimino di narcisiste oggi, prevalentemente anche narcisisti uomini, ma diciamo così, no? Perché tu sostieni due cose, no? Uno, di essere narcisista, certificata, doc, diciamo, narcisista. No, non lo sostengo io, sono stata diagnosticata da un psicologo. Esatto, un psicologo, quindi narcisista, quindi abbiamo... Però sostieni anche nel vero video che tu non la dai, la conservi, no? Mi sembra. Assolutamente sì, io sono per il partito del non darla. Non darla. Non darla. Narcisista. Ma proprio per una questione di narcisismo, vero, perché una narcisista come me non si abbasserebbe mai a darla, proprio perché io mi sento pura e illibata come la Madonna, capito? Brava. Non mi abbasserei a dare qualcosa. Poi la narcisista non dà, prende e basta, non dà. Eh, quindi io ho fatto due tipologie tra la narcisista e la donna, ma io gioco un pochino. La narcisista santa e la narcisista zoccola, no? Esatto. Quella che non la dà e quella che la dà invece abbondantemente, no? Esatto, io conosco la narcisista santa. La narcisista santa. E cosa pensi della narcisista zoccola, però? Tanto per... Che è quella che la dà praticamente a tantissimi uomini, mettendoli un po' in competizione tra loro e cercando di sfruttare, diciamo, dando, togliendo, però, insomma, promiscua. Sì, 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 guarda, ti dico, io non ne ho mai conosciute di narcisiste zoccole. Ho conosciuto molte più borderline zoccole che narcisisti, perché siccome io ho, nell'avvenito, ho incontrato tantissime persone borderline più o meno diagnosticate. Loro sono tutte zoccole, tutte zoccole, però loro non lo fanno tanto per sfruttare, lo fanno più per un'insicurezza loro, di avere, non so, magari delle affermazioni, così. Non lo fanno con l'intento di sfruttare come potrebbe farlo la narcisista. Però ti dico, donne così, io non ne ho mai conosciute. Ci credo che esistano, però non ne ho mai conosciute. Anche perché io, non è che, anche io sfrutto gli uomini, però io li sfrutto senza dargliela. E qual è la differenza? Eh, questo è il top, diciamo. È la tipologia di cui parli tu. Eh, sì, sì, sì. Però non pensi di privarti di qualcosa, diciamo, un piacere anche alla sessualità? No, anche perché io non provo niente nel sesso, cioè, non provo assolutamente niente, quindi a me non piace farlo. Ah. Cioè, proprio io, cioè, se lo devo fare è perché devo raggiungere un obiettivo. Esempio, la do magari per rafforzare un legame con una persona che mi interessa, però sempre con l'obiettivo, la do perché, cioè, deve esserci, c'è sempre una strumentalizzazione del sesso. Non per un piacere donistico, diciamo. No, io, anche perché io non ho mai provato piacere nel farlo, e anche perché, vabbè, le prestazioni di voi maschi sono sempre alquanto. È vero, è vero. Cioè, non è che si può pretendere. Però io, non provando piacere, non ho motivo di darla. Per fare, provare piacere a un altro, che non mi frega assolutamente niente che lo provi, ecco, quindi. Ma, secondo te, c'è differenza tra il narcisista uomo e la narcisista donna in generale, o sono... Secondo me, gli uomini sono molto più zoccole, gli uomini però, delle donne. Perché l'uomo, dato che l'uomo, essendo maschio, in generale, comunque ricerca il piacere sessuale, sfrutta le donne per quello, per il proprio piacere sessuale. Mentre, invece, la donna narcisista non è interessata al piacere sessuale, è interessata a sfruttare l'uomo per altri motivi, per farsi fare i favori, i soldi, i passaggi, le cose, no? E quindi non per il sesso fino a se stesso. Invece l'uomo, secondo me, lo fa per il sesso fino a se stesso, per farsi vedere che va con tante donne, perché il narcisista segue un po' gli stereotipi della società, quindi l'uomo con tante donne è figo, allora il narcisista vorrà essere un figo. Donna con tanti uomini, zoccola, e quindi la narcisista non vuole passare per zoccola, chiaramente. Quindi se lo fa, lo fa comunque magari un po' di nascosto. Quindi tu ritieni questo, insomma, che c'è il narcisista comunque si adegua alle tendenze, diciamo, della società. Sì, perché noi dobbiamo spiccare, quindi nella società, no? E essere, avere una buona reputazione, diciamo così, e quindi sicuramente seguiamo un po' questi stereotipi. E infatti l'uomo narcisista, secondo me, spesso magari si circonda di tante donne anche solo per apparenza, per farsi vedere che è circondato da tante donne, più che per la gioia in sé di frequentare tante donne. E gli uomini, secondo te, quindi sono deficitari da un punto di vista così sessuale, tra virgolette, o magari non, diciamo, hai sentito dire anche da altre persone? I miei ex sicuramente sono molto deficitari. Tutto deficitari. Gli altri uomini non lo so, però. Insomma, secondo me, potete fare di meglio, via. Ma senti, è un'altra cosa che mi incuriosisce sempre, ogni volta che, perché io seguo la diva, la seguo su Instagram, tra l'altro seguitela su Instagram, la diva del tubo, seguitela su TikTok, sempre la diva del tubo, e ovviamente su YouTube, dove quando, diciamo, progetti le vendette con i tuoi ex, no? Ci racconti un attimino questa tua, diciamo così, di questo atteggiamento di, verso il dia, di punizione, diciamo. Io sono molto punitiva. Allora, nel momento che uno è un ex, vuol dire che ha fatto qualcosa che non doveva fare, altrimenti non sarebbe ex, giusto? E di conseguenza loro devono pagare a vita per gli errori che hanno fatto con me. E quindi è per questo che io mi vendico e proprio li stoltero pesantemente e gli faccio del male, proprio godo a fare loro del male. Perché quindi mi stai dicendo che se una persona si comporta bene tu sei nei secoli fedele, diciamo, resti con quella persona... Nei secoli fedele non te lo so dire. No, vabbè, però voglio dire, in generale... Allora, però diciamo di sì, cioè se una persona mi rispetta, sicuramente io non gli faccio delle vendette o delle cose atruci. È vero che però tendo sempre un po' all'umiliarli, quello sì. Io sono molto autoritaria, molto umiliatrice, però non lo faccio con cattiveria, cioè anche magari i miei amici maschi li umili un po', no? Cioè, però non lo faccio con cattiveria, lo faccio perché è la mia natura quello di umiliarti. Ma tendi, diciamo, però a innamorarti di una persona più succube o pensi di poterti veramente innamorare, se pensi di poterti innamorare di una persona invece un po' più dominante di te? No, in realtà nel succube non mi innamoro, è impossibile. Il succube serve per essere sfruttato e basta. Mi innamoro di quello un po' ribelle, sì. Infatti i miei problemi di coppia sono sempre derivati dal fatto che ho avuto persone che mi tenevano un po' testa, diciamo così, e questo ha provocato situazioni molto drammatiche. Però a me piace quella persona lì. Il sottone totale, ovviamente no, non mi può piacere da quel punto di vista. Invece amiche donne, che rapporto hai con magari altre donne con le quali ti interagisci, diciamo? Guarda! Io seguendoti nei social l'ho visto che hai avuto, diciamo, avvicinamenti, anche poi scontri, allontanamenti. Sì, sì. Allora, diciamo che le amicizie in generale, che siano donne o uomini, ho notato che durano, i miei rapporti d'amicizia durano se l'altra persona è un po' assoggettata a me. Quindi un po' subordinata, un po' adorante, che mi idolatra. Quindi i miei amici sono quasi più fan che amici, forse, in un certo senso. Mentre invece le persone con cui non ho questo tipo di rapporto o si creano amicizie che poi si concludono male, oppure magari rimaniamo conoscenti così, però senza magari approfondire. Mentre invece la persona che si assoggetta a me, ma non in modo cattino, lo dico in modo brutto, ma in modo comunque che è una persona che mi venera in qualche modo, allora lì si può creare l'amicizia. Ho notato che tutte le mie amicizie sono abbastanza così, con l'altra persona che diciamo mi venera. E il tuo piacere in generale, diciamo, in una relazione, se non è sessuale, perché aver ricerca di una relazione? No, intanto qua non vado alla ricerca di una relazione. Ecco, quindi prendiamo questo presupposto che io sto bene da sola. Mi sono capitate delle relazioni così, però mi sono capitate come la disgrazia che ti capita. La disgrazia da lontanare, vada in retro. Sì, sì, no, no, io spero non me ne capitino più, per me, ma per loro che si salvano la vita, nel senso che non vado a cercare relazioni di tipo sentimentale e sessuale, anche perché ho relazioni con uomini anche senza andare nel sentimentale. Quindi parliamo anche degli schiavi, ricordate che io sono gli schiavi, quindi ho uomini adoranti che mi servono, che si prostrano a me, qualsiasi cosa ho bisogno, ce l'ho un uomo che mi aiuta, no? E quindi io diciamo che sono già a posto sistemata da questo punto di vista. E poi capita ogni tanto che, che cazzo, quello che ti mi... Che poi è un innamoramento, se mi capita, più proprio di possedere quella persona e controllarla. E la cosa che mi fa uscire di testa è magari non riuscire a controllare quella persona al 100%. Perché è un po' sfuggente, diciamo, oppure va con la frequente altre donne, anche magari come mi sembra che sia capitato. E quindi quello che consiglio anche a chi è innamorato di un narcisisto, di una narcisista, fateli perdere il controllo su di voi. Penso che anche tu l'avrai detto. Eh, sì, sì, sì. Infatti questa è la cosa principale, non dargli degli appigli, cioè dare e poi togliere anche, magari fargli credere. Perché è quello che ci fa, diciamo, innamorare delle persone, quando non riusciamo a soggiogarli completamente. Tu ti sei innamorata? Pensi che il narcisista possa innamorarsi? Oppure è più un'esigenza di possesso? No, no, no. Un narcisista può innamorarsi, però nel momento che si innamora quella persona è di sua proprietà e non è più una persona. Ah, quindi? È tutta l'unione di sua proprietà, lo considero di sua proprietà, tanto che possiamo arrivare anche ad uccidere se veniamo lasciati o abbandonati, da come chiamiamo. Adesso. Ho fatto un video presente su Lady Gucci, non so se hai sentito la storia di Lady Gucci. Lady Gucci, sì, raccontatelo un po', però io ho sentito che Lady Gucci è la tua, diciamo... Aspetta, mi hanno suonato il campanello. Il telefono squilla. Sarà il corriere. Vabbè, vabbè, lasciate il corriere Amazon, facciamo tutto, è interessante questo. Sì, lascio me lo davanti, grazie. Era il corriere, era il corriere. Vabbè, dai, facciamo tanto tutto... E quindi Lady Gucci è la tua parte. Lady Gucci, Lady Gucci è l'ex moglie di Maurizio Gucci che è stato ucciso da lei, insomma. Ah sì? Non sapevo questo. Ah no, no, no. Vabbè, no, senti, guardati il mio video. Lady Gucci, che sarebbe la ex moglie di Maurizio Gucci, che l'ha fatto uccidere. Ma quando questo? Un fatto di conto? Negli anni 90. Ah, nel manco. È tornata questa storia in voga perché è uscito un film. Ah, ok. E lei è una narcisista, lei è proprio, credo, diagnosticata una narcisista, e ha fatto uccidere il marito perché l'aveva lasciata per un'altra, praticamente. E lei ha sempre detto che era l'amore della sua vita. Cioè, nelle interviste che fa da sua uscita di prigione, ha sempre detto che era l'amore della mia vita. Ed è così, cioè, io la capisco, perché anche per me è così, nel senso, se io amo un uomo, l'idea che questo mi abbandoni, mi rifiuti, e si rifaccia una vita magari con qualcun altro... Non lo sopporti. È una cosa proprio totalmente inaccentabile ed inconcepibile, per quello che poi facciamo vendette, ripercussioni, ritorsioni. E questo vale anche per l'uomo con la donna, perché infatti è pieno di narcisisti uomini che uccidono. Beh, sì, sì. Per loro ex. Ma per questo motivo. E quindi che suggerimento puoi dare, diciamo, a una persona per evitare di cadere in questi meccanismi, se vuoi dare un suggerimento, diciamo? Cioè, come si lascia un narcisista senza ferirlo, diciamo? Eh, allora, bisogna intanto non lasciarlo. Cioè, bisogna farsi lasciare da lui, ma senza ferirlo o fargli cose brutte. Ma l'unico modo è che lui si stufi, che lui o lei si stufi. E basta. Cioè, ad esempio, il mio primo ex, ho avuto una relazione lunghissima di tanti anni con lui, e io l'ho lasciato nel momento in cui lui si era così tanto assoggettato a me che ho detto, vabbè, sono arrivata al mio obiettivo di averlo davvero tutto per me, perché lui era proprio diventato apatico. Cioè, lui mi diceva, fai come vuoi tu, io non ho più voce in capitolo, no? Nel momento che lui ha proprio abbassato la testa, ha detto, fai quello che vuoi. Allora, lì, io lì mi sono stufata di lui. Era noioso. Noi soffriamo molto la noia. Era noioso. Era così, inutile. Non mi divertiva più. E nel momento che ho trovato un altro, l'ho lasciato su due piedi. Ah, quindi. Però dopo ti eri interessato di nuovo, oppure basta, stop? Poi mi eri interessati. Poi sono tornata, un anno dopo più o meno, sono tornata, l'ho ricatturato, e di nuovo lì si è creata tutta una situazione. E poi lui, siccome io non gliela davo, cioè l'avevo ricatturato, ma senza più dargliela. E allora lui si era trovato un'altra, perché poi non stavamo più proprio insieme ufficialmente, ci vedevamo ogni tanto, no? Io non gliela davo. Lui se l'ha trovato un'altra, e allora lì sono nati dei casini assoluti. Però io sono riuscita a intortare la ragazza, a farglielo lasciare, a farla diventare mia amica. Ah, bene. E lui è rimasto solo come uno scemo. Adesso hai perso il traccio o ancora lo tieni nel tuo radar? Allora, non lo tengo più nel mio radar, perché è una persona che non... Per me... quello che potevo fargli glielo ho fatto, non mi interessa più. Però mai dire mai nella vita. Cioè, comunque, se avessi l'occasione di riacchiapparlo, probabilmente lo riacchiapperei. e invece il tuo, diciamo, le cose che nella vita ti danno più soddisfazione, cos'è che ti motiva, diciamo, per stare bene? Cosa che ti rende felice, insomma? Allora, i soldi e il successo. Quindi, fama e soldi. Per me sono le due cose fondamentali. Mi piace fare quello, fare soldi, tanti, sfruttando ovviamente uomini, come già sai, e il successo, l'essere famosa, quindi il successo sui social, i fan, queste cose qua. Questi sono le mie due, i miei due motivi per vivere, diciamo. Che poi i soldi, mi dice, la volta scorsa, li spendi anche, come li guadagni, li spendi, non hai... o li guadagni? li spendo, poi vabbè, adesso, ora come ora, ne faccio veramente tanti, quindi non riesco a spenderli tutti, per cui me li sto anche tenendo da parte. E non hai mai pensato di fare investimenti che preferili rendere poi ulteriormente, magari, o per... No, perché probabilmente non ho questo tipo di mentalità, cioè non saprei neanche come farli, sinceramente non saprei proprio come... Non ho, si vede questo tipo di mentalità, e quindi io li accumulo, poi me li spendo, perché poi in realtà non è tanto per averli, è proprio il fatto di fare soldi, che è quello che gli dà soddisfazione. Ma senti, ma senza far nomi, ovviamente l'ultima relazione, quella che tu, insomma, credo che ancora in qualche modo, insomma, interagisci un po', pensi che anche dall'altra parte hai a che fare con un narcisista e quindi sette e due, oppure no? Io penso che dall'altra parte c'abbiamo uno che... Si fa... Cioè... I disturbi li ha tutti. I disturbi li ha tutti. Quindi anche narcisista, borderline, se è... Bipolare, personalità multiple, se lì abbiamo proprio un minestrone di disturbi. Sì, lui è un po' un narcisista, dei tratti ce li ha, però lo trovo un narcisista un pochino più... più grottesco, diciamo, un po' più basic. Autodistruttivo però anche. Autodistruttivo. Lui è autodistruttivo per quello che non è al 100% narcisista, perché un vero narcisista come me è comunque una persona equilibrata, quindi non è che va fuori di testa come lui e non si distruggerebbe mai. Cioè... Non potrebbe mai distruggere se stesso il proprio aspetto fisico, il proprio patrimonio. Non lo farebbe mai. Lui fa uso di droghe. Anche... Non dico che i narcisisti non si drogano, ma anche se lo fanno, secondo me, comunque non lo fanno fino a rovinarsi. Ecco. E senti, visto che ti hanno fatto questa diagnosi, che credo tu hai ricercato, no? Perché ovviamente non è che... Hai mai pensato di magari fare un percorso psicologico per, diciamo, superare il narcisismo o ti sta bene così? No, assolutamente. Io ho fatto delle consulenze per capirlo meglio, quello sì, per capire meglio me stessa. Quindi magari... Anche perché io poi ho anche tratti psicopatici nella diagnosi. Sì, ho visto, ho visto. Se c'è, mi avete detto... Quindi sono una narcisista proprio più potente degli altri narcisisti. E quindi magari, a differenza di altri, io sono una che tende più all'isolamento, cioè ho dei tratti, un po' di odio verso l'umanità. Quindi sono particolare in ogni caso. E per capirmi meglio, sì, però guarire dal narcisismo no, perché si sta bene essere narcisisti. cioè si sta bene nel senso che alla fine è quello che ti fa avere successo nella vita, almeno per quanto mi riguarda. Quindi non vorrei guarire da quello. E sentirmi magari poi come una comune mortale invece che sentirmi una dea. Ma se tu ti senti un dio, perché devi curarti per sentirti un deo? Ma invece la sessualità, che dicevi che tu non puoi piacere, pensi che sia esclusivamente colpa degli uomini o lì non vorresti fare un percorso anche lì per magari... Non so, diciamo che proprio non mi interessa. Non è una cosa che mi interessa. Sicuramente gli uomini hanno una colpa non indifferente. Però alla fine è una cosa che proprio non ho io. Cioè voglia di fare sesso, capito? Cioè proprio dicendolo in modo spicciolo. Ma gli uomini, diciamo, che tipo di uomini attiri di solito? Cioè quali sono gli uomini che si coinvolgono con te? Eh, quei malati di mente. È uno come il tacchino per dire che è capitato a me. È capitato a me come una disgrazia. Lui si è coinvolto però comunque, secondo me. A modo di scuola. Beh, lui, già che parlavamo dei suoi possibili disturbi, io lui più che narcisista, non abbiamo diagnosi qui. Quindi andiamo così. Lo vedo più come un estrionico lui. e quindi uno che è più... Esibizionista, però il narcisistrionista... Esibizionista e vuole stare al centro della... Lui vuole tutte le attenzioni per sé. Lui deve essere sempre al centro dell'attenzione. Lui si fa anche del male alla fine per avere attenzioni. Cioè, prendo quello che vuole. Chissà perché con me c'è stato questo... Anche perché io gliele do queste attenzioni. Lui non distingue l'attenzione buona da quella cattiva. Nel senso che anche se io mi vendico e gli faccio del male, a lui va bene. Perché è comunque un'attenzione. Per quello che secondo me è molto estrionico. Perché l'estrionico... Cioè, il narcisista vuole l'attenzione positiva. A tutti i costi. L'estrionico, qualsiasi attenzione, purché lui sia al centro, diciamo. E invece il lato, diciamo, di sottomissione degli uomini, tu lo fai per piacere tuo o per interesse o per quale motivo? No, lo faccio semplicemente per... Ma a parte che è una recita quella. Nel senso che io giro dei video a tema dominazione che vendo sul web. Quindi è una recita in tutto e per tutto. Per me è semplicemente un business. Però comunque è vero che anche nella mia realtà mi circondo di uomini sottomessi. Che magari non sono schiavi. Schiavi certificati, no? Tipo quello che dice, sono padrona, io sono uno schiavo. Però sono comunque uomini sottomessi che per me farebbero tutto. E quindi sicuramente ho una natura dominante in me. Quindi questi li attiri, li conosci nel web di solito? Tramamente web o proprio come conoscenza reale? Ormai, Massimo, ci si conosce tutti tramite web. Però poi li trasformi... Mi è capitato, per dire, anche quando andavo a scuola, di avere persone sottomesse a me. Sì, sì, sì. Ah, addirittura. Ah, quindi pensi che sia un qualcosa che, diciamo... Perché pensi che hai sviluppato questi tratti narcisistici? Ti sono mai chiesto, cioè te l'hanno detto. Allora, mi hanno detto che i tratti psicopatici possono essere genetici. Cioè, nel senso che lo psicopatico nasce proprio con alcune zone del cervello, tipo quella dell'empatia così, che sono un po' meno attive. E quindi per questo non trovo empatia e cose varie. Infatti io sono proprio poco sensibile alle cose della vita in generale, no? Tipo quando mi hanno hackerato YouTube io non ho fatto una piega. Ah, sì, ho visto che hai... Zero emozioni, zero reazioni. Invece il narcisismo è acquisito, pare che sia acquisito. Quindi che sia provocato da qualcosa nella propria infanzia, diciamo, che ha provocato questo narcisismo. Io non lo so, nel senso che traumi non è che ne abbia avuti, però ho avuto i genitori, i miei genitori, tra di loro, quindi con me erano, sono sempre comportati benissimo, ma tra di loro si sono fatti le guerre. E quindi io ho avuto delle situazioni in casa allucinanti per via dei genitori che tra di loro litigavano e si separavano, poi tornavano insieme, poi si lasciavano, poi tornavano, poi si lasciavano, poi tornavano. Quindi magari è stato quello che... Cioè, qual è l'unica cosa della mia infanzia? Quindi il modello maschile e femminile, diciamo, come rapporto è stato buon ascorto, diciamo. Sì, diciamo che io tendo a un po' ripetere quello che ho visto in famiglia. Cioè, nel senso, anch'io ho sempre avuto relazioni burrascose, sì. Non percepisco proprio una relazione che non sia così. Cioè, proprio per me è una cosa estranea, totalmente. Perché ti dà emozioni, tu provi emozioni, sì. Allora, io provo emozioni, ma faccio più fatica degli altri a provare emozioni. E quindi devo trovarmi queste situazioni un po' al limite per riuscire a provarle. Perché quello che noi vogliamo, noi psicopatici, è provarle. Solo che c'è più difficile, no? Se non in situazioni più estreme. Quindi le emozioni devono essere emozioni forti? Devono essere forti, sì, sì, sì. Se un uomo mi fa soffrire, per dire, se un uomo riesce a farmi soffrire, io dico, cazzo, lui lo amo. Se riesce ad arrivare a quello. Perché normalmente io non soffro per nulla, non ho una sensibilità particolare. Cioè, sono una persona molto fredda, diciamo. Quindi pensi che è qualcosa che ti porti dietro da tanti anni? Insomma, anche un po' l'esibitonismo. Io mi ricordo, nel senso che ho visto un tuo video dove dicevi che forse, non so, a vent'anni, qualcosa del genere, hanno addirittura sconsacrato una chiesa a causa tua. Non so se ho visto un tuo video. In senso che non siamo sempre stata alla ricerca di... Lì, la cosa della chiesa, era successo che avevo fatto delle foto con la mia amica, cioè, passavamo davanti a una chiesa, siamo andate e lei mi ha fatto delle foto. Ma dentro la chiesa? Dentro la chiesa. Dentro? Dentro la chiesa, tipo seduta sull'altare, con la coscia di fuori, così. Ed è lì, è successo un casino, ma c'avevo 17-18 anni, no? Ah. E lì, vabbè, l'ho fatto, cioè, in realtà non è che ho pensato, cioè, ragazzina, non è che vai a pensare alle conseguenze, no? Però l'ho fatto anche lì per una mia vanità, perché volevo farmi le foto, mi sentivo figa, volevo farmi la foto, così, e quindi è successo un casino. Quando è successo quel casino, che sono finita sui giornali? Come mai? Poi è successo questo casino, perché queste foto le ho divulgate, in qualche modo? Sì, perché le ho divulgate. Mio papà mi diceva, vado a mettere queste foto su internet, che se ti beccano. Io ovviamente le ho messe, incurante delle conseguenze, mi hanno beccata. e io sono stata in tutto quel periodo felice, che ero sui giornali, che... Ah, di tua? Sì, sì, sì. No, è stata un'esperienza interessante, ma anche lì, semplicemente, per il mio narcisismo, così, io dicevo che ero narcisista, ancora prima di sapere che era un disturbo. ma le ho messe su qualche... C'erano già i social, quando è successo questo? C'erano ai primordi, perché erano i primi anni 2000, quindi ai primordi, ecco, dei social. Però sì, comunque, internet c'era, potevo diffondere le mie foto, come ho fatto. e quindi è stata sconsacrata questa chiesa, hanno fatto la sconsacrazione. Sì, dopo che sono andata a fare questa cosa, hanno chiamato il vescovo, per farla sconsacrare. Sì, sì. Ed è una bella soddisfazione, però sei riuscita, insomma, già... Sì, infatti, infatti, ho fatto sconsacrare una chiesa, cioè, orgoglio proprio. E senti, un'altra cosa ti volevo dire, e vedo che ogni tanto tu ti incazzi pure, perché sono tante ragazze che ti chiedono come fare a trovare gli schiavi, come fare a... Ma pensi che sia una dote, una cosa che si può apprendere, questo, o una cosa che si nasce, insomma, con questo talento, diciamo? il punto non è una dote, è che allora uno o nasce, questo è un lavoro, da imprenditori e da imprenditrici, no? Parliamo del business, dell'adult comunque, no? E quindi, o tu nasci imprenditore, quindi in qualsiasi campo della tua vita, come anche tu, tu ti sei creato questo lavoro, non è che hai chiesto a qualcuno, mi aiuti a fare questo lavoro, te lo sei creato tu, perché hai avuto l'illuminazione di farlo, io mi sono creata al mio, quelli che vengono a chiedere, come se a te ti vengono a chiedere, Massimo, mi spieghi come fare il guru dell'amore, cioè, mi spieghi come fare successo sui social, tu li mandi a fanculo, penso. Beh, sì, sì, diciamo che poi ci sono quelli che copiano, però in realtà le copiature, poi nel web, ce l'abbiamo un po' tutti, insomma. Tu hai qualcuno che cerca di copiarti, emularti nei social? Sì, sì, certo, ma finché mi copiano, che non mi rompono le palle, copio pure, però mi vengono a chiedere, magari piangendo miseria, tipo, ho due figli, non so come mantenerli, mi aiuti, ma che cosa cazzo, me ne frega dei tuoi problemi, cioè. Esatto, bravo, sì. No, vabbè, poi in effetti, voglio dire, credo che sia anche a Mercerar, gli schiavi, money is lame, giusto? Questa categoria, quindi. Sì, infatti, infatti, e poi in realtà, io non li ho mai cercati, sono sempre venuti loro, quindi. Addirittura. Sì, non ho mai cercato schiavi. Secondo te, che tipo di patologie hanno, questi uomini, diciamo, che in realtà, non cercano nulla, no? Poi, c'è solo un'interazione, nel senso di essere. Ma guarda, possono avere patologie più disparate, e quella considerata, diciamo che le perversioni sessuali, fanno parte del gruppo delle parafilie, quindi sono deviazioni sessuali, che possono essere sia a sestanti, e sia accompagnate, magari da un disturbo di personalità. Però loro non cercano neanche sesso, di fatto, con te, perché tu non credo che gli offri quello? No, a parte che è tutto virtuale, quindi anche volendo, non potrebbe essere, però no, no, non cercano sesso. Gli schiavi cercano di essere sottomessi, non sesso. Quindi comunque, tu lavori solo virtualmente, diciamo, non c'hai contatti. Sì, assolutamente, virtualmente, e a volte neanche interazioni, una volta facevo magari su Skype, sai, magari le cam in cui le insultavo, così, adesso neanche più quello, una cosa, un servizio che non faccio più, perché comunque mi dà fastidio interagire con persone, che non conosco. Direttamente. Sì, e quindi vendo i video, semplicemente. Faccio i video, li vendo, io non saprò mai chi sei tu che lo compri, e basta, semplicemente faccio così. Ah beh, è anche più comodo, nel senso che non hai neanche un'interazione diretta, te li fai quando vuoi, e questi se li... Esatto, sì, questo video dico, dammi 500 euro, per dire, magari qualcuno me li dà, cioè, ma senza che io ci debba parlare, poi ci sta quello che magari mi scrive il messaggio privato, però adesso tutti i siti, tipo Allifans, così, hanno il messaggio privato a pagamento, cioè che tu mi scrivi, e io ti rispondo, per dire, ma il mio, la mia risposta te la metto, che devi darmi 50 euro, se no non la vedi. Ah, ho capito. Tu sblocchi, paghi 50, e vedi la mia risposta. Ho capito. Beh, quindi, diciamo, un bel sistema, anche per... Sì, infatti. portano avanti questo. E gli abbonamenti su YouTube, sul tuo canale, invece tu non li hai sviluppati, no? No, non li ho più fai, ho fatto per un po', poi mi sono rotta le palle. Mi sono rotta le palle. Sì, sì, sì. Preferisci andare direttamente su piattaforme? Sì, perché si guadagna molto di più, quindi per fare due soldi in più su YouTube, che poi, cioè, ci va a tempo, e dovendo già fare queste cose qua sui siti, su questi siti qui, non ho tempo di fare anche mille video per YouTube. Poi un'altra tua passione, vedo, sono le scarpe e i vestiti, giusto? Cioè, vedo che senti tanti video. Cosa ti dà soddisfazione nel comprare vestiti? Eh, guarda, quella è proprio vanità. Allora, a parte il fatto che adesso li devo anche comprare per lavoro, perché appunto, facendo tanti video, ho bisogno anche di tante cose da mettere, chiaramente, quindi alcuni li compro proprio apposta per quello, tipo il completino intimo, le cose un po' più sexy, le compro proprio appositamente per quello. E poi, vabbè, come ogni donna, tutte quante amiamo le scarpe e i vestiti alla fine, per una vanità femminile. Però mi dicevi che invece quando esci fuori di casa, per non farti tanto riconoscere, vai più, diciamo, non tanto con vestiti. Sì, io quando vado fuori non mi trucco, mi vesto più sciatta possibile, perché purtroppo, una volta no, una volta quando uscivo, mi vestivo anche per uscire bene, no? Però da quando la gente ha cominciato a fermarmi per strada, e a rompermi le palle, da lì, mi vedi con gli occhiali, la mascherina, il cappuccio, proprio non cagatemi. E quindi sì, per questo motivo qui, perché poi quando iniziano a riconoscerti, a te ti riconoscono Massimo. Ogni tanto, ogni tanto, sì, ogni tanto capita, ogni tanto capita. Ma questo non ti fa piacere, non ti, non ti, all'inizio mi faceva piacere, all'inizio sì, quando sei all'inizio e dici, ah che figo, mi fermano, che figo, sono famosa, no? Quindi all'inizio, poi dopo un po', quando hanno iniziato anche a suonarmi a casa, lì è pesante. E sono riusciti a rintracciare, a rintracciarti diciamo. Ma sì, perché chi ti abita vicino lo sa che sei tu, no? e quindi suonano, rompono il cazzo, per un periodo successo, e quello non è bello, quando vanno nella tua privacy a dare fastidio, quello non è bello. Sì, sì, poi abbiamo avuto altre volte, hai avuto diversi stalker anche, che hai usato abilmente, però mi ricordo. Sì, sì, è vero, è vero. E senti, progetti per il futuro, che cosa, cosa, cosa vedi? Hai qualche idea, qualche progetto, qualcosa? Guarda, adesso devo sentire, perché mi hanno chiamato, però non posso dire nulla, però mi hanno chiamato da Mediaset, per delle cose, qui dovrò andarci a parlare, adesso a gennaio, però ancora non dico nulla, perché non so nulla, e quindi vediamo, magari ci sarà qualcosa in tv, oppure continuerò con le mie cose. E poi c'è un cantiere, cosa te lo posso dire, un libro. Ah, un libro, dai. Sì, però non ti posso anche qua dire nulla, però sto pensando, ho già qualcosa scritto, quindi ci sarà, ci sarà. Ti ricordo che tu hai fatto diverse canzoni, non hai fatto 5 o 6, quanto anni hai fatto? ho fatto un po', sì, 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 sì. E come sono andate queste, queste canzoni? Hanno portato... Non sono andate chissà che, cioè, nel senso che, a parte quelle visualizzazioni che hanno fatto su YouTube, su Spotify, così, però lì, le canzoni, se non hai una casa discografica dietro, è molto difficile. Che ti spinga. quindi sono andate meno bene rispetto magari ad altre cose che ho fatto, sicuramente. Diciamo che è un po' un hobby, cioè, quando mi gira che magari ho l'ispirazione di fare una canzone, la faccio, ma senza aspettarmi molto, perché, appunto, cioè, se non sei proprio un musicista, ma giustamente, è che chi è davvero un musicista, è giusto che... però, insomma, non è facile. Quindi, diciamo che... C'è stato nel web, però mi ricordo, adesso non mi ricordo, Gangnam Style, qualcosa del genere, che è diventato famoso tramite YouTube, non credo che fosse un cantante poi così, eccelso, questo, ha fatto... Eh, però ce l'aveva sicuramente qualcuno, qualche casa discografica che l'ha spinto, sicuramente. Cioè, si vedeva anche dal video che comunque era... Un video o un video particolare? Sì, si vedeva che comunque era fatto da professionistia. Beh, ma anche i tuoi sono carini comunque. Sì, sì, sono belli anche i miei video, sì. Sono stati... Andate a vederli su YouTube. Sì, sono molto horror così. Sì, sì, infatti. E questi, diciamo, l'idea l'hai avuta tu comunque, l'idea del tipo di video... Sì, sì, regista, sceneggiatrice, tutto io, sì. Poi in televisione, anche se si è fatto anche un reality, mi sembra, non so se è andato... Poi si è uscito qualcosa? No, quello per fortuna non è uscito, anche perché io l'ho rinnegato, perché mi stavano tutti scritto. Quindi non ho firmato un cazzo. E quindi, boh... Non si sa. Non si sa. spero non esca mai. Hai fatto diverse, diverse apparizioni, anche in televisione, no? Al Ciao Darwin, mi sembra. Sì, è stato un successo. Tutte le mie, tutte le mie apparizioni televisive sono state tutte un successo, quello, quello sì. Hai creato comunque un personaggio, comunque nel tempo, insomma. Sì, credo di essere molto portata a fare quello, sì. quindi parlare in pubblico, queste cose qui sì. Bene, bene. Bene, abbiamo fatto una bella chiacchierata per conoscere di nuovo un po' un po' meglio Alicia, che quindi è la narcisista santa delle mie... Sì, assolutamente santa. La narcisista santa. Io credo che abbia più tratti, diciamo, anche, come dire, ormonalmente un po' più maschile, un po' più mascolina, non punta molto sulla promiscuità sessuale, quello che utilizza. quelle zoccole. Ma sì, probabilmente sì. Penso che poi la sessualità di ognuno dipenda anche poi magari dagli ormoni, da varie... quindi c'è... Bene, bene, comunque, molto piacere di nuovo, incontrare la nostra Alicia Griffanti. Anche a me, quanto piacere Massimo, quando vuoi, sai che sono qui. Sì, iscrivetevi al suo canale, seguitela nei vari social, Instagram, TikTok, perché è un personaggio, diciamo, a me è molto simpatico, devo dire, praticamente, è un personaggio, un personaggio, e niente, quindi seguitela. Ciao Alicia, grazie della presenza, ciao a tutti. E al prossimo video, al prossimo video.